Dopo la seduta mattutina svolta sull'erba della Ricchia, il tecnico della salaritana Alberto Bollini ha presentato la sfida di lunedì con il Latina. Dopo gli auguri del DS Fabiani, Bollini ha preso la parola e ha sottolineato come non bisogna prendere sotto gamba la gara con i Pontini, match fondamentale per il prosieguo del campionato dei Granata. Oggi non puoi pensare di avere un calo di motivazioni guardando la fotografia della classifica, sarebbe un autogol clamoroso, cosa che io sono certo e sicuro che i nostri giocatori non faranno perché abbiamo alzato i toni di responsabilità e questa è una parola a cui teniamo molto tutti noi perché vogliamo concludere questo campionato nel migliore dei modi e poi dando veramente tutto senza avere nessun riempiante. Non si vincono le partite solo con la tattica, con i numeri o con i singoli ma si vincono proprio anche con questi aspetti motivazionali e bisogna fare attenzione a un Latina dove voi avete detto ultima spiaggia, è una squadra che comunque è sempre stata in partita perché pur non facendo risultati nell'ultimo periodo ha perso in casa col Vicenza 1-0 ma noi nei nostri studi guardiamo che nel primo tempo il Latina meritava di vincere almeno con due gol di scarto contro il Vicenza. A Bari erano a 0-0 fino al sessantesimo e quando ha perso ha sempre perso con massimo un gol di scarto, quindi è una squadra che sa stare in partita, è una squadra organizzata e noi dovremmo essere la migliore salernitana non solo a livello tattico individuale ma proprio a livello caratteriale di responsabilità. Grazie. Grazie. Grazie.